E' stato presentato oggi il progetto Plasma Iperimmune, siglato da Avis Lombardia con la Regione, dopo sei mesi dalla partenza della sperimentazione. Una raccolta che ha coinvolto tutti i donatori periodici di Avis, che hanno deciso di aderire al progetto e sottoporsi contestualmente alla donazione, ad un test sierologico e ad un tampone, per vedere se avessero sviluppato gli anticorpi covid necessari alla donazione del plasma iperimmune, destinato sia all'uso clinico che a quello farmaceutico. A fronte di un comunicato stampa fatto da Regione Lombardia qualche settimana fa, settimana scorsa nello specifico, dove dichiarava che in Regione c'erano più di 2200 unità di plasma disponibili, possiamo dire che quasi la metà, circa 1000 unità, sono state raccolte presso le unità di raccolta dirette e gestite da Avis. In tutta la Lombardia, le percentuali più alte di donatori con anticorpi tali da poter donare il plasma iperimmune si sono riscontrate nei territori più colpiti dalla prima ondata di coronavirus, come ad esempio Bergamo, dove dei 1400 donatori il 22% è risultato positivo al test sierologico e di questi circa il 40% con iperimmunità a distanza anche di mesi dall'infezione primaria, per un totale di 300 sacche di plasma iperimmune. È importante dire che la raccolta di plasma iperimmune è tanto più efficace, cioè raggiunge più facilmente i bambini, proprio là, quindi nelle aree e nel momento in cui il virus sta circolando di più. A Milano invece la percentuale è molto più ridotta. Delle 2800 sacche raccolte dalla fine di luglio a settembre, 28 erano di plasma idoneo, solo l'1% del totale. Noi abbiamo incrementato notevolmente la raccolta di plasma, dal settembre su settembre abbiamo prelevato più di 2000 sacche di plasma, di cui 2800 dalla fine di luglio alla fine di settembre e abbiamo raccolto solamente 28 sacche di plasma per il plasma iperimmune, quindi l'1% di quanto raccolto. Le circa 2200 sacche di plasma iperimmune raccolte in Regione Lombardia saranno principalmente utilizzate per la sperimentazione nella cura dei malati Covid, terapia non ancora dimostrata nella sua efficacia, ma molto promettente.